Parola d'ordine, ambizione. Comincia così la conferenza stampa della Palacanestro Trapani che si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio l'Ido San Club di Trapani. La conferenza è stata occasione per presentare alla stampa e ai numerosi tifosi i cinque nuovi acquisti che faranno parte del roster per questa nuova stagione del campionato di A2. Ad introdurre l'incontro il direttore generale Valentino Renzi, poi è toccato a coach Daniele Parente presentare scelte e caratteristiche dei nuovi arrivati. Bello l'entusiasmo dei due USA, Miles Carter e Deriante Jenkins, così come convincenti le parole di Krilz e Seroku, Marco Rupi e Leomar Dieng. L'appuntamento per la presentazione di tutta la squadra è per domani sera alle 22 sempre all'Ido San Club. Queste le parole di coach Parente. Ha una squadra molto giovane rispetto agli altri anni, credo che abbiamo un'età media di 23 anni, forse la più giovane del campionato. I primi giorni di lavoro sono stati molto positivi, tutti molto disponibili. È ovvio che con il passare del tempo metteremo sempre più regole per il nostro gioco, ma devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata ottima. Rispetto agli altri anni possiamo accelerare il processo di amalgama del gruppo, soprattutto per loro due, che è la prima esperienza in Italia. Miles ha fatto solo nove partite a Brindisi e comunque si cade in una realtà completamente nuova, mentre Deriante viene solo da un'esperienza in Europa. Quindi averli con noi sin dall'inizio è sicuramente una cosa positiva.